Il Gran Soleil, come sempre, è presente in Cannes, in questa fantastica locazione. Siamo qui da un lungo tempo, quindi è come la nostra seconda casa. Il Gran Soleil è presente in Cannes con tre botte in un'altra zona. Abbiamo il 46LC che abbiamo lanciato l'anno scorso, in un'altra locazione, e poi abbiamo il 43 in la linea di performance. E siamo a portare con questo bello bello, il nuovo Gran Soleil 58. Per noi è stata la prima volta che abbiamo avuto tutte le richieste del cliente. Quindi, parlando dell'interior layout, abbiamo fatto un grande esploramento per proporzare al cliente, come possibile, un differente layout, in termini di salone, posizionamento del galley, posizionamento del cabine del proprietario, e tantissime customizzazioni. perché crediamo che questo 58 non è solo un barco per la produzione, ma è un semi custom. Per il Gran Soleil, questa è la prima volta che è presente anche con un grande evento. Questa mattina, abbiamo organizzato in un restaurante di beach l'evento per la presentazione e per l'operazione offensiva del Gran Soleil 58. Abbiamo anche introdotto la classe del Gran Soleil 58. Per la prima volta, abbiamo anche, fuori del boccio, un altro Gran Soleil 58 con un hull bianco, prontato per fare un testo per i giornalisti e i prospecti. se spazano in un scenario? Ozie, dovuto prendere il περι vore il nostro corso E' come un'unico in tutto i giornalisti, per i giornalisti, per i giornalisti, che ci trovi di un sistema per i giornalisti, per i giornalisti, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.